Ciao da Laura! Siete pieni di hard disk e non sapete più dove far spazio nel case del vostro pc? Beh, non preoccupatevi, basta recuperare un cassetto estraibile. Per chi non lo sapesse, il cassetto estraibile è un contenitore strutturato per componenti hardware che presenta un vano di apertura frontale con la funzione di ospitare dischi interni ed è dotato di chiusura di sicurezza. Inoltre è una soluzione utile per il recupero di dati da un pc all'altro senza il bisogno di comprare unità esterne o aprire il case. Ci sono diversi fattori che possono influire sulla qualità di un cassetto estraibile e oggi andrò ad elencarvi i punti fondamentali che dovrete tenere in considerazione per procedere all'acquisto. Cominciamo! Numero 1. Caratteristiche. È normale individuare prodotti molto differenti tra di loro relativamente alle prestazioni. Quando si vuole acquistare un modello di cassetto estraibile per hard disk risulta necessario studiare con attenzione le caratteristiche tecniche del prodotto. Solo in questo modo è possibile essere sicuri che il modello di cassetto estraibile selezionato sia adatto alle proprie esigenze. Esistono anche cassetti estraibili dedicati alle SSD. Questi ultimi hanno forme e caratteristiche diverse. Numero 2. Materiali. I materiali risultano essere spesso sottovalutati ma in certi ambiti sono fondamentali. Scegliere un modello di cassetto estraibile prodotto con materiali di alta qualità permette di avere un prodotto resistente nel tempo. Solitamente i cassetti estraibili sono fatti di metallo per resistere a calore ed urti ma non sono rari i modelli con delle parti in plastica solitamente più economici. Numero 3. Prezzo. Naturalmente nel momento in cui si sceglie di acquistare un modello di cassetto estraibile risulta essere necessario considerare la qualità generale del prodotto. Questa può essere notata vista d'occhio osservando l'effettiva bontà della struttura. Una caratteristica fondamentale per verificare la bontà di questo prodotto è sicuramente il prezzo. Un prezzo maggiore solitamente indica una qualità più alta anche se non è difficile trovare cassetti estraibili dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Questo è tutto. Potete trovare il cassetto estraibile perfetto per voi sul sito bpmpower.com cliccando sul link riportato in descrizione. Se il video vi è stato utile mettete un bel pollice in su e lasciateci un commento. Per restare sempre aggiornati iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella. Ciao alla prossima!